Ben ritrovati sulla nuova TV per l'appuntamento meteo, le perturbazioni si susseguono una dietro l'altra da un po' di tempo a questa parte, l'inverno è entrato nel pieno, almeno l'inverno meteorologico perché dal 1 dicembre appunto convenzionalmente l'inverno meteorologico entra in questa data, la neve è caduta abbondante così come previsto soprattutto sul Sirino dove ha superato il metro di altezza, sul Pollino, ma un po' su tutti i rilievi della Basilicata è caduta una discreta colza di neve di 30, 40, 50 centimetri, poi i venti tra ieri e l'altro ieri, venti da sud ovest più miti hanno contribuito a sciogliere piuttosto rapidamente il manto bianco che però è rimasto a quote più alte, dove tra l'altro questa mattina sta di nuovo nevicando dalle prime ore della giornata con nevicate piuttosto copiose, oltre 1500-1600 metri, abbiamo una foto proprio del Sirino di questa mattina, questo è il lago Laudemio, vedete il lago completamente ghiacciato e ricoperto dalla neve e la neve che continua a cadere in questo momento, come dicevamo intorno ai 1500 metri, ma anche a quote leggermente più basse. Vediamo l'immagine del satellite su scala europea, ci mostra queste perturbazioni che una dietro l'altra si susseguono, vedete, tranne la penisola iberica, tranne una parte dell'Europa centrale, per il resto abbiamo tanta nuvolosità che interessa lo scacchiere europeo, la perturbazione la troviamo, vedete una sull'Italia meridionale, poi c'è una pausa e poi una nuova perturbazione sulla Francia che arriverà tra domenica sera e lunedì. Andiamo per ordine, vediamo lo zoom innanzitutto dell'Italia, riferita proprio alla nostra penisola, vedete la perturbazione che insiste in queste ore proprio sull'Italia centro-meridionale e il minimo lo vedete a sud della Sardegna, si invortica, questo minimo scivolerà verso sud-est e richiamerà la perturbazione verso di sé e abbandonando, quindi la perturbazione abbandonerà la nostra regione tra la notte e la giornata di domani. Vediamo quindi le previsioni per oggi, la cartina preparata sempre da Meteo 7 che ringraziamo, una cartina che ci mostra ancora tanta pioggia per il resto della giornata, qualche schiarita si avrà anche sulle zone ioniche nel corso delle prossime ore, ma anche lì arriveranno dei fenomeni o sono già arrivati e per il resto una situazione di maltempo generalizzato con nevicate che attualmente sono intorno ai 1.400-1.500 metri che poi nel corso della seconda parte della giornata scenderanno di quota fin verso i 1.000-1.100 metri, difficilmente arriverà la neve a quote più basse proprio perché arriva il freddo ma finisce la perturbazione, quindi tra la notte e la giornata di domani la perturbazione abbandonerà la nostra regione e quindi questa serie di fenomeni saranno decisamente più deboli, quindi la neve si fermerà a quote sopra i 1.000 metri, credo. Per quanto riguarda invece la giornata di domani alta pressione temporanea, arriva un miglioramento temporaneo sulla nostra regione, vediamo la situazione per domani e quindi abbiamo bel tempo su gran parte della nostra regione, soprattutto sulle zone ioniche, vedete le zone del Materano, abbiamo un cielo sereno poco nuvoloso, un po' di nubi in più sulle zone interne, in mattinata proprio nelle primissime ore ancora qualche locale fenomeno, qualche nevicato intorno ai 1.000-1.100 metri e qualche pioggia che rimane sulle zone occidentali, ma comunque una giornata all'insegna del tempo relativamente buono o discreto. Le temperature domani si alzano rispetto a oggi leggermente, vedete torna il sole, quindi 9 gradi a potenza la massima e 11 a Matera, minima invece che scendono a 3 gradi a potenza, 5 gradi a Matera con venti da nord su tutta la regione, moderati con qualche rinforzo isolato. La domenica torna a farsi vedere di nuovo un'altra perturbazione, la vedevamo dal satellite sulla Francia, una perturbazione che interesserà soprattutto poi nella seconda parte della giornata alla nostra regione, vediamo la previsione per domenica, tempo impeggioramento a partire da ovest e sud ovest, quindi tutte le zone a ovest del Potentino nel corso del pomeriggio avranno le prime precipitazioni, precipitazioni che saranno nevose solo a quote molto alte perché tornano temporaneamente i venti di Libeccio, faranno alzare un pochino le temperature, vedete massima potenza di 10 gradi a Matera di 14, con minime 4 a potenza e 6 a Matera. Tempo in attesa, in attesa ancora la zona ionica, la zona del Materano dove domenica non sono previste precipitazioni. Come dicevo invece sul resto della regione, in mattinata discreta, poi nel pomeriggio venti forti, aumentano i venti da sud ovest, quindi raffiche piuttosto forti di nuovo, venti, 70-80 km orari, quindi una situazione di tardo-autunno, con situazione in ulteriore peggioramento. Andiamo a vedere il lunedì una situazione che vede l'arrivo di aria fredda nuovamente, quindi questa altalena sembra riproporsi ogni 2-3 giorni, abbiamo prima i venti di libeccio, poi arriva la pioggia, poi arriva la neve, insieme all'aria fredda e poi tornano le schiarite, ecco la previsione per lunedì. Tempo perturbato su tutta la nostra regione, ancora una volta le zone orientali sono quelle un pochino più protette dall'Appennino, vedete di nuovo il simbolo della neve, nevicate che lunedì saranno presenti intorno ai 1100-1200 m, nel corso della serata nuovamente avremo una diminuzione della quota neve, questa volta è probabile che la neve torni a imbiancare potenza o quantomeno si faccia vedere perché può nevicare anche con 2-3 gradi e il manto non viene su, non si raccoglie, però potremmo vedere la neve un'altra volta su Potenza e sui rilievi intorno ai 700-800 m, questo tra lunedì notte e martedì mattina, poi il tempo torna di nuovo a migliorare, quindi una situazione come dicevo altalenante, sembrerebbe che per il giorno dell'Immacolata il tempo sia quantomeno discreto. Vediamo se ci aiutano in questo gli spaghetti come ultima cartina, spaghetti che stanno a testimoniare proprio questa altalena delle temperature, vedete passiamo da valori nelle medie di oggi, poi tra stasera e domani avremo una diminuzione quantomeno in quota delle temperature, tornano a salire tra sabato e domenica, da lunedì le temperature tornano a scendere lunedì, martedì abbiamo valori decisamente al di sotto delle medie, però le precipitazioni saranno finite nel frattempo, quindi nuova risalita delle temperature a metà settimana è una oscillazione, però come vedete non abbiamo grosse ondate di freddo all'orizzonte, a parte questi due piccoli mini episodi tra una di sabato e l'altra di martedì, per il resto non abbiamo grossi episodi di freddo. Per quanto riguarda le precipitazioni, ecco il grafico in basso, ci mostra la giornata di oggi con molta pioggia, poi pausa sabato, parte di domenica, poi tra lunedì e martedì altre precipitazioni in arrivo e poi un'altra pausa, come dicevo per l'Immacolata, sembrerebbe che il tempo si rimetta sul bello, quindi sui binari del bel tempo, quantomeno un tempo discreto, quindi attualmente sembrerebbe con molta probabilità che l'Immacolata sia una giornata discreta, da passare magari anche in montagna, visto che comunque nel frattempo sarà caduta altra neve, quindi per la gioia dei bimbi, per la gioia dei lisciatori, anche se gli impianti per il momento non sono ancora aperti, ma a breve probabilmente apriranno. È tutto, non mi resta che augurarvi un buon fine settimana e ci vediamo sulla Programma TV, venerdì prossimo.